Mi chiamo Massimo Molinari e sono il titolare della Molinari Design SRL, un'azienda che produce mobili imbottiti, ossia divani e poltrone. Abbiamo una nostra collezione che esportiamo un po' in tutto il mondo, principalmente in Europa, ma abbiamo anche esportazioni nelle Americhe e in Estremo Oriente. Facciamo un prodotto che si posiziona nella fascia alta del mercato e cerchiamo un po' di fare un prodotto, tra virgolette, di design, anche se design è una parola molte volte utilizzata a sproposito. Design è progetto, quindi vuol dire immaginare delle esigenze future e interpretarle e realizzare un prodotto che possa coniugare sia una funzione estetica ma anche un fattore funzionale. Abbiamo accolto la proposta di Trentino Sviluppo di partecipare alla manifestazione Tent London in collaborazione con una giovane designer inglese. Abbiamo realizzato un progetto ad hoc che ci ha tenuti impegnati per diversi mesi. Un progetto molto particolare perché il modello, il divano che abbiamo adesso realizzato, che si chiama Rondò, è un po' diverso dai canoni stilistici della nostra collezione tradizionale, ma proprio per questo è stato un progetto che ci è piaciuto fin da subito e che quindi abbiamo voluto realizzare. Londra è una città molto importante dal punto di vista del design, è una delle città dove il Made in Italy è più apprezzato. Ecco perché abbiamo accolto con piacere proprio la proposta di partecipare e di portare una parte del Trentino anche sui mercati stranieri per far vedere quello che sappiamo fare. My name is Lucy Karine, I'm a furniture designer from London. I was invited to work with Molinari because I specialize in upholstery. I was delighted to take part and we've been working together to bring a sofa and armchair to production. They're inspired by the punch bag, the leather detailing and the cylindrical shape and form of the punch bag I've translated into a sofa design. . . . . . . Grazie a tutti